Ivan Castiglione, tra i protagonisti della musica è finita e chissà che stasera non puoi vincere il premio come miglior attore protagonista. Magari, magari. Sono comunque contento che la musica è finita ma insomma il corto inizia a cantare. Sono felice perché è un lavoro molto bello fatto da Vincenzo Pirozzi, sta avendo grandi consensi in tutta Italia e quindi poi se stasera viene un premio siamo ancora più felici. Quanto sono importanti eventi del genere anche per la valorizzazione dei corti ma in generale della cinematografia in campane? Bene, i cortometraggi sono fondamentali perché non c'è un vero e proprio mercato quindi c'è la possibilità di vederli, di essere apprezzati anche dai registi e quindi di trovare contatti e cose, quindi per i corti è fondamentale. Ma in generale creare un movimento oggi in qualsiasi evento che crei attenzione artistica verso qualcosa della settima arte ma del teatro in generale fa bene. Per fortuna a Napoli come il gran galà della fiction è una cosa molto molto importante.